Buongiorno Davido, allora oggi parliamo di un paio di news, dopo la buffata, la mega puntata di ieri su Apple World Wide Developer Conference e il Vision Pro, oggi torniamo su terreni a noi più congeniali e anche su durate più congeniali, spero, e andiamo a parlare di un paio di news. Partiamo da Reddit e poi finiamo con Astro, una nuova release del framework front-end JavaScript Astro. Quindi devi andare subito alla news che riguarda Reddit prendendo questo articolo di Ars Tecnica che è proprio intitolato Il piano di Reddit per uccidere le app di terze parti che ha generato proteste. Naturalmente piuttosto forte questo titolo, ma cosa è successo? È successo che Reddit ha deciso di monetizzare sulle richieste, sulle chiamate API degli sviluppatori di terze parti che hanno appunto creato dei client per Reddit. E questo naturalmente ha generato delle proteste perché il costo proiettato delle chiamate API è considerevole, tant'è che molti degli sviluppatori di queste app hanno dichiarato che non avrebbero i mezzi per risponderci, per rispettare questo costo. E quindi una serie di subreddit hanno deciso per il 12 giugno di andare in sciopera, quindi di bloccare i subreddit per 48 ore, proprio in risposta a questo annuncio. Naturalmente Reddit è un sito che è partito un po' come cosa anarchica, come cosa nerd, mentre oggi è un social network praticamente molto diffuso, molto importante e deve trovare il modo, dal suo punto di vista, di monetizzare, di avere un business attorno al suo valore. Un business che negli anni di Reddit ha sempre faticato un po' a decollare. Reddit nel suo contenuto è sempre stato molto apprezzato, però nelle sue interfacce, nelle sue applicazioni molto meno. Pensate che Reddit è un social network che ha 17 anni, però l'app mobile ufficiale è stata lanciata solo nel 2016 e poi ha seguito un po' una rivisitazione dell'interfaccia che, diciamo che l'interfaccia classica era un po' respingente per il grande pubblico, adesso ha anche un'interfaccia rinnovata. Però comunque l'app ufficiale di Reddit generalmente è considerata di qualità un po' altanenante, sicuramente inferiore rispetto a app di terze parti. App di terze parti che potrebbero essere a questo punto uccise proprio dalla politica di prezzi di Reddit. Questa mossa alla Twitter che ha messo in campo Reddit. Tant'è che uno degli sviluppatori di queste app di terze parti che è Apollo, no, Apollo non è lo sviluppatore, Apollo è l'app, è una delle app più popolari, è un client per iOS molto interessante, tra l'altro io lo uso con gusto, e lo sviluppatore si chiama Christian Selig e ha fatto due conti scoprendo che con questa nuova politica di prezzi gli verrebbe sostanzialmente una fattura da 20 milioni di dollari l'anno per rispettare, per il volume di chiamate all'API che fa la sua app, e ha candidamente ammesso di non avere a disposizione questo denaro per pagare la fee. E tra l'altro un altro sviluppatore che è lo sviluppatore di RedditisFan, che è un altro client, ha sostanzialmente detto che è la stessa cosa, che questi costi costringerebbero l'app a chiudere. Naturalmente il fatto che Reddit voglia generare revenue dai suoi contenuti, dai suoi API è abbastanza normale, è comprensibile, però è il prezzo, è il costo che Reddit ha deciso di applicare a queste chiamate che è impressionante. E infatti Selig ha proprio dichiarato che non vede come questo prezzo sia basato sulla realtà, ossia ragionevole. E insomma dai conti che Selig ha condiviso viene fuori che il prezzo che Reddit chiede per 50 milioni di request è di 12.000 dollari e facendo una comparazione, l'ho fatto una comparazione con ImageUR, che è il sito dove si possono costare immagini, che come target diciamo è simile a Reddit, bene il costo di ImageUR è di 166 dollari per lo stesso volume di chiamate, per 50 milioni di chiamate, quindi 166 dollari versus 12.000 dollari. E tra l'altro altre policy si stanno aggiungendo, tra cui quella di bloccare gli ad nelle app di terze parti, ad che naturalmente sono la principale fonte di revenue per queste app di terze parti, e inoltre il blocco ai contenuti di tipo Not Safe for Work, quindi ai nudi, eccetera, che anche questi, contenuti adulti diciamo, e anche questi sono una delle principali, diciamo, i principali vettori di queste app. Staremo a vedere come proseguirà questa roba qua, però, diciamo che le nuove policy dovrebbero entrare in funzione, in azione, dal primo di luglio, e quindi vediamo un po' cosa succederà. Passiamo a questo punto alla seconda news della giornata, che è la release di Astro 2.6, con alcune novità super interessanti. Partirei da quella che dà il titolo anche un po' al blog post, che annuncia la release, che sono i middleware, e i middleware sono fondamentalmente una cosa, un pattern, uno strumento che già conosciamo in altri framework, no? Ovviamente Angular, ma Next.js, insomma, sono quelle funzioni che si possono mettere in mezzo, o prima o dopo le request, insomma, prima o dopo il render di una pagina, per fare delle cose con la richiesta che l'utente sta facendo, quindi possono essere sfruttate, il caso tipico, classico di uso, è quello dell'autenticazione, autenticare, verificare che una richiesta sia autenticata o meno, insieme a tante altre cose che possono essere fatte per così manipolare la richiesta prima o dopo che una pagina viene renderizzata. Quindi adesso middleware in Astro sono stabili e sono disponibili per tutti gli sviluppatori dalla versione appunto 2.6. E tra l'altro c'è un nuovo oggetto, qui Lego, che si chiama Locals, e quindi ogni dato, ogni attributo che viene inserito in Locals è persistito e quindi a questo punto diventa disponibile come nell'oggetto globale Astro.Locals, quindi è possibile magari prendere dei valori da una request, attaccarli a questo oggetto globale, a questo punto l'intera app di Astro li ha a disposizione. C'è un esempio sul blog post ufficiale che è proprio riguardante l'autenticazione e quindi sulla function sul middleware on request c'è proprio l'esempio di un'autenticazione ed è quello classico che si fa quando si va a fare un esempio di un middleware e poi si viene sfruttato l'oggetto Locals per aggiungere, per persistere appunto gli attributi dell'utente che si è allogato in quel momento. Quindi questo era un po' middleware. Ci sono altre cose nella release 2.6, altre cose che sono diventate stable, tra queste una Hybrid SSR mode. Sapete che Astro consente di creare siti statici o siti dinamici o siti server-side rendered appunto. Con questa modalità ibrida, Hybrid SSR, settando proprio nelle configurazioni l'output di tipo Hybrid, è possibile avere un sito statico, quindi pre-renderizzato, diciamo, ma con alcune API, alcune chiamate dinamiche, quindi alcune chiamate che non vengono staticizzate ma vengono rese appunto dinamiche a ogni request. L'esempio che viene fatto è quello di un form, quindi un sito che viene renderizzato staticamente, pre-renderizzato in ogni sua pagina, però l'API, la post del form di contatto, per esempio, ecco che viene settata come non pre-renderizzata, quindi a quel punto quella viene rigenerata a ogni call su quell'endpoint. Quindi esempio classico, sito statico con il form non pre-renderizzato, e questa era l'hybrid. Poi c'è un'altra cosa interessante che è diventata stable, che sono le custom client directives. Che cosa sono? Voi sapete che le island di Astro, quindi i componenti di Astro, possono essere renderizzati in pagina all'occorrere di certi eventi, di certe condizioni, per esempio quando il browser le sta visualizzando, quindi quando l'utente scrolla e le sta visualizzando, oppure ad altri eventi che si verificano in pagina, ecco che viene renderizzato un componente. Queste sono naturalmente, fino ad oggi, erano predefinite, cioè gli eventi che scatenano questi render erano predefiniti, e quindi tu potevi scegliere quale di questi eventi scatena un render. Ora invece è possibile creare delle direttive custom per arrivare a questa renderizzazione. Quindi qua viene fatto l'esempio di una direttiva custom che è lo hover, quindi quando il componente che ha questa direttiva nel suo controllo, ecco che questa direttiva, ecco che questo componente viene renderizzato al verificarsi di questa condizione. Quindi è possibile creare delle condizioni custom. Infine, velocemente, c'è un'opzione per aggiungere il CSS inline, insomma abbastanza classica, e poi un supporto sperimentale ai redirect, quindi è possibile definire un redirect da una rotta all'altra, e questo verrà naturalmente supportato dal routing di Astro. Quindi questo era un po' Astro 2.6, naturalmente se volete andare a approfondire, volete vedere tutti i dettagli, vi consiglio di andare sul blog ufficiale a leggervi l'annuncio di Astro 2.6, che comunque Astro rimane un framework tra i più interessanti di quelli della nuova mandata, dei framework JavaScript. Vi consiglio di darci un'occhiata, perché per realizzare dei siti personali, o dei micro front-end, o comunque dei siti front-end che hanno una verticalità spiccata, ecco è un tool da avere proprio nel bagaglio delle possibilità, perché è super interessante. Quindi torno al mio faccione, torno qua soltanto per salutare, perché abbiamo fatto un po' più dei minuti che volevo fare, in realtà credo. C'è anche molto caldo, però devo dire che, insomma, spero che sia una puntata interessante. Grazie per avermi seguito fin qui. Oggi è mercoledì, quindi è anche uscita la puntata di Continuous Delivery, che vi consiglio di ascoltare, una puntata un po' diversa dal solito. Abbiamo fatto un po' di cacciara, però spero che vi piaccia. Noi naturalmente ci sentiamo nei prossimi giorni, non so quando, non so come, non so dove, però sarò sempre qua. Al buongiornissimo e ciao.